Ci tengo proprio a specificare il fatto che questo è un mondo che non è per tutti ed è sbagliato pensare di dire che chiunque ce la possa fare qui dentro perché la verità è che non è vero. Io fino da piccolo ho capito che io ero destinato a fare dei soldi nella mia vita. Sono qua per annunciarvi che ho in ballo nella mia testa, ho iniziato a progettare la mia prima rapina ufficiale. La prima rapina! Si chiamerà questo episodio Sesso, Droghe e Matteo Bianco. Non siamo troppati amici! Ok. Imprenditore, alzati e fattura. Ma devo dire pure podcast. Ma sì, diciamolo. La genesi dell'opulenza. Questa era buona o? Questo podcast è offerto da 20 Business Training. Ladies and gentlemen, so già cosa vi state chiedendo, il perché. Lo so già, sono vestito elegante. Perché oggi è una puntata molto importante. Siamo di qua. Siamo qua con un ragazzo molto giovane, classe 2000, quindi parliamo veramente di ragazzo molto giovane. Poi lo dico come se fossi vecchio, sono 99, però insomma è giovane comunque. Imprenditore, influencer, networker, sex symbol, un po' tutto. Signori e signore, Matteo Bianco! Ciao Matteo, benvenuto, benvenuto, benvenuto. Molto bene, molto bene. Assolutamente sì, stanchi, come sempre. Distrutti, devastati, ma sulla cresta dell'onda. Quindi stanchi ma non ci si ferma. Stanchi ma col piede sull'acceleratore. Sarebbe un problema se fosse stanchi. Soprattutto la nostra età, cazzo, che siamo veramente... Esattamente, la nostra età. Esattamente, la nostra età. Ma infatti di qua abbiamo tutti e tre l'occhiaio da solito, quindi... La nostra età, la nostra età. Che potrebbero essere tanti, diciamo potrebbe essere un'indicazione sul fatto che magari siamo bombardati da occhiaie, ma loro non lo sapranno. Siamo bombardatissimi da occhiaie. Loro non lo sapranno mai. Io ti dico che stamattina mi sono messo le patch sugli occhi per insomma le borse, ma non sono sufficienti. Non sono sufficienti. Devo prendere le borse più grosse. Io uso un prodottino interessante, dopo te lo faccio. Eh, mi servirebbe una soluzione da questo punto di vista. Non che curi troppo, però diciamo da una mano. Devo nascondere le mie tre ore di sonno di media, più che altro. Mi serve una strada a gemma. Bene, bene, bene. Ma Matteo... Poi mi hai rubato la battuta, non ho capito perché... Per che motivo ti sei messo la camicia? Cioè, di solito so io che mi messo proprio elegante, oggi io col maglione ci siamo scambiati. Ma perché ti spiego, io ho aperto oggi l'armadio, no? Mi sono ricordato di non avere ancora la... No, ancora l'ha servito in casa e non c'ho nemmeno, aveva papà che mi fanno le robe. Non c'avevo niente. E ho detto, cazzo, ma che bell'abito. Va che roba. Sembra che l'ho fatto quasi in maniera voluta. Ah, va bene, va bene. E quindi siamo così profumati e incamiciati. Signori, la puntata finisce qua. Grazie mille. Grazie, è stato un piacere. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. No, bene, bene. Teo, noi come ad ogni puntata cerchiamo un po' di andare a scavare dietro alla persona che c'è, no? Insomma, ci presentiamo sui social, siamo sempre dei vincenti, siamo sempre forti. Ma io sono convinto che tu hai fatto un sacco di merda e l'hai superata per essere, insomma, quello che sei diventato ora. Assolutamente. Facciamo magari in maniera anche abbastanza rapida un passo indietro alla tua adolescenza. Ad oggi sei ormai avviato a livello del network marketing, sei uno dei punti più alto e più forte in Italia, no? A livello proprio di risultati. A livello di impresa ti stai buttando bello dentro, ma chi era Matteo quando avevi 16 anni, non lo so, ragazzo come tutti? Cosa facevi? Allora, ti dico, a 16 anni, ecco, 16 anni è un'età interessante perché Matteo Bianco era il classico ragazzotto, mettiamola così, un po' popolare, se vogliamo dire, del suo paesino. Io vengo da un piccolo paesino in provincia di Torino, Pinerolo, quindi vi parlo di una realtà di, penso, 30.000 abitanti circa, quindi non il paese, il classico paesotto e io sono sempre stato nel mondo degli eventi Pierraggio, Feste Pelliciari, eccetera. Praticamente quella storia lì nasce così, io praticamente nell'estate della mia terza media, cavallo tra la terza media e la mia prima superiore, avevo questo sogno incredibile di andare, si chiamava la festa delle scuole, la festa di fine anno dove si riunivano tutti gli studenti, destra e sinistra. E praticamente vado per comprare la prevendita e il PR mi guarda e mi dice, guarda, se mi porti 10 dei tuoi amici a ballare, io ti faccio entrare gratis. Nella mia testa era la cosa più semplice del mondo, ho accettato di diventare un venditore, ho comprato di diventare un venditore in quel momento, quindi vado dai miei compagni di classe, destra e sinistra, insomma, dopo 8 minuti gli porto praticamente queste 10 prevendite vendute, lui mi ha detto, perfetto, guarda, entri gratis e mi ha regalato la mia prevendita. Da lì io ho iniziato proprio il periodo delle superiori con queste idea qua e quindi, al solito mondo, no, si parte ovviamente in piccolo, in piccolo, in piccolo e praticamente io sono arrivato più o meno ai 16-17 anni ad avere proprio, praticamente, non ti dico il monopolio, se si può dire così, cioè io insieme a quelli che erano gli altri ragazzi che mi davano una mano, però praticamente se eri nella fascia dalla prima alla quarta superiore e andavi a ballare, dato che di discoteca ce n'era una, Passavi da me. Passavi da me. Cioè c'è una situazione per il monopolio. Quindi il Matteo Bianco di 16 anni era un ragazzo, diciamo, molto, che amava stare nella sua zona di comfort, perché comunque entravi lì nel locale, eri, capito, quello... Il capo eri un po'. Sì, il capo no, perché... Già si arriva a Torino, già si arriva a Torino. Sì, sì, era New York a confronto, però sì, ero molto nella mia zona di comfort e la mia vita era quella. La mia vita era condita da calcio, era condita da sabati sera, appunto, poco sobri a destra e sinistra, ed era condita in generale un po' da una quotidianità, diciamo, ecco, super normale. Normale qui, un ragazzo normale. È stata quella la fase nella quale hai, come dire, rotto il ghiaccio con le relazioni, i rapporti, eccetera, e magari prima eri un pochino più timidino, più riservato, eccetera, oppure già di tuo eri un aggregatore? Allora, parlando con mamma, mamma dice sempre che io fin da piccolo avevo un po' uno spirito da leader, che mi piaceva trainare le persone. Secondo me, se riavvolgo il nastro, quel periodo di vita comunque per me ha fatto molto, nel senso che ad oggi non mi occupo più di quello, sono in un mondo totalmente differente, però, uoi o non uoi, si parla di sapersi approcciare con gli esseri umani. Si parla di vendita diretta o indiretta, si parla di, banalmente mi ricordo le prime volte che facevano le storie sui social, ci sponsorizzavamo in quel... Quindi, diciamo che in tutto il mio percorso può essere che anche quella cosa lì mi abbia dato, ripeto, direttamente o indirettamente una mano. Qual è l'abilità che hai imparato di più in quella fase? Allora, ti potrei dire la persuasione, ma in senso comunque buono, ok? Nel senso che io mi ricordo che, tra l'altro io con il mio socio dei tempi, che è Matteo De Petris, tra l'altro poi la persona che mi ha un annetto o due annetti dopo presentato quello che è il mondo del network e dell'online... Bella Matteo! Ciao Matteo! Lui mi ricordo che praticamente per un periodo, quando poi le persone si facevano un pochino più grandi celle, casomai prendevano la macchina sui 18, 17, 18 anni, noi dovevamo convincerli a non andare a ballare a Torino, ma continuare a rimanere a Penerolo. Quindi lì avevamo le nostre tattiche di persuasione, strategie super affinate del tipo vieni a ballare e ti regalo una drink. Le offerte di marketing quelle belle. Il marketing quello di ci fatto bene. La reciprocità, no? Esatto, quindi sì sì, comunque mi ha... quello penso che me l'abbia insegnato è anche comunque un po' trattare l'essere umano, ecco sì. E quella fase della tua vita che ambizioni avevi? Cioè come vedevi? Vedevi almeno il tuo futuro, avevi chiaro o ancora vivi appunto una vita normale dove paradossalmente magari ero un po' cieco, insomma, no? Allora ti dico, quello che io ho sempre avuto, so che può sembrare una frase forse non troppo nobile, però io fino da piccolo ho capito che io ero nato, ero destinato a fare dei soldi nella mia vita, perché proprio mi piaceva l'argomento soldi. Io ricordo che mia madre mi faceva proprio gli sgridoni, perché casomai mi beccava mezzanotte e mezza di notte su YouTube, ma questo ti parlo magari in seconda superiore, dove cercavo i dieci lavori più pagati del mondo, ville di milionari, cioè io nella mia testa avevo già quella roba lì a 15 anni, quindi qualunque cosa che... Mi ricorda qualcuno? Ma più o meno, più o meno. Anche tu come me? Voilà. Voilà, voilà, voilà. Solo io in seconda superiore non c'avevo YouTube, ma credo che giocavo ancora con i soldatini. Eh, ma ci sta. Ma mi sono chiesto più volte se fossi autistico, e mi dicevo, che cazzo, guarda solo queste cose, gli altri non se ne fregano. No, a me proprio, ricordo proprio che avevo questi dialoghi con mia madre, dove mia madre veniva da me e mi diceva, ma guarda che i soldi non sono, la lussuria. E io gli dicevo proprio, vabbè mamma, tanto un lavoro lo dovrò comunque fare, tanto vale farne uno per diventare ricco, voglio fare la bella... Cioè, io mi ricordo che nella mia testa proprio c'era quell'idea lì. E che immagine avevi? Cioè, tu come ti volevi ritrovare? Se potessi descriverla? Allora, non lo so, inizialmente si trattava, poi ovviamente da bambino, sai, no? Si tratta molto di passioni materialiste, no? E ci sta. Che come potrebbe essere la macchina, io poi insomma, ai tempi ero super fissato con film tipo Fast and Furious, Need for Speed, mi ricordo che giocavo sulla PSP, Dada. Quindi, la mia idea di soldi era tipo la bella macchina, no? Cioè, il classico luogo comune, proprio banalotto, però quello è quello che io avevo nella mia testa. Cioè, io ero nettamente consapevole che nella mia vita avrei dovuto trovare il modo di fare qualcosa che centrasse con i soldi. Secondo te, come mai questa cosa? Da cosa può essere nata? Allora, sicuramente non dalle radici familiari, nel senso che io sono figlio di un umilissimo operaio e di un'umilissima impiegata, io sono figlio unico, quindi influenze di fratelli, sorelle, non ne ho. Sai che forse non ti... Pinerolo non mi sembra la Silicon Valley. Pinerolo non mi sembra la Silicon Valley, tantomeno City Life, quindi probabilmente avrò visto un film su... L'unico indizio che mi può venire è che mio padre è sempre stato fissato di film tipo sulle rapine, no, non che mio padre è appassionato di rapine, attenzione, poi qua ci arriva... È appassionato dei film! Dei film, che quella infatti me l'ha passata poi anche a me, però mi ricordo che io guardavo ogni volta che guardavo un film con mio padre c'era rapine, quindi c'erano dei soldi, questi qua che uscivano con tantissimi soldi. Adesso che mi ci fai, non mi sono mai messo lì a scavare, quella potrebbe essere stata l'unica cosa, non è il dubbio, comunque grazie papà che ti chiedeva. Sì sì, grazie. E per quello può pensare noi, i miti, gli attori, i film di rapine, va bene. Esatto, infatti sono qua per annunciarvi che ho in ballo nella mia testa, ho iniziato a progettare la mia prima rapina ufficiale. La prima rapina! A breve avrete più informazioni sui soldi. Noi non lo sappiamo, ma adesso arriveranno quattro ragazzi incappucciati la rapina e proprio adesso... Passamontagna! Esatto! Vi rubiamo i microfoni! Quindi comunque è una cosa che ti porti avanti da tantissimo tempo. Da quel tempo, sì. Chiamiamola ossessione. Ossessione. La definisci ossessione? Assolutamente, ma anche proprio riprendendo il discorso della disco a quel periodo lì, io ricordo che in discoteca io proprio andavo per... nella mia testa non andavo in discoteca per divertirmi, andavo in discoteca per fare dei soldi. Certo, era lavoro. Io mi ricordo che proprio ero in un ambiente dove ovviamente tutti quanti spendevano, tutti quanti facevano bottiglie, tutti quanti si divertivano e io invece mi divertivo nel far fare bottiglie agli altri e avere la commissione solitata. Ma questo perché... Nel sangue avevo quella roba. Perché, allora, perché secondo me questa è una fase che prima o dopo è capitata a chiunque fa business, imprenditori, venditori e quant'altro. Però sai, la puoi vivere in diversi modi, nel senso vedi la sfida, il divertimento. Io mi ricordo il mio primo approccio alla vendita, l'ho avuto perché vendevo porta a porta. E lì io avevo un po' la sfida nel vedere, ah questo mi firma, non mi firma e quant'altro. Però lo vedevo sì dal punto di vista dei soldi perché volevo la bella macchina, volevo il bel vestito, le belle scarpe, eccetera. Però anche perché era un po' il misuratore, il termometro che mi indicava il mio valore, le mie performance, le mie capacità. Ti capitava anche a te questa cosa o era solo per mero denaro? Probabilmente era quello, probabilmente era quello, a me quello che ha sempre gasato tanto, io penso di aver smesso di chiedere soldi ai miei genitori, penso, non voglio dire tanto, ma penso a 14 o 15 anni. Quindi anche un po' avere quella roba lì, ma banalmente, arrivare a scuola e sapere che gli altri si compravano il kinder deliz con i soldi del papà e io arrivare a scuola e mi compravo il kinder deliz con i miei soldi, sotto sotto era un qualcosa che comunque stimolava parecchio il mio ego e mi rendevo conto che mi piaceva. Anche l'autostima comunque, la consapevolezza che hai te stesso, sei uomo, quando comincia a gestirti da solo sei uomo. Bravo, mi dava la netta consapevolezza che comunque rientravo quasi forse nell'1% rispetto alla mia età e nella mia testa mi dicevo bravo Matte perché tutti gli altri non lo fanno, tu stai già iniziando a farlo, capito? Quindi poi sono i primi tempi dove la gente viene da te e ti dice cosa vorresti fare da grande, quindi inizia comunque a parlarsi di lavoro, inizia a pensare un giorno dovrò fare quel lavoro per mangiare, a me sapere, attenzione che faccio i milioni dalle prevendite, però sapere che avevo già quella mia piccola indipendenza comunque è una cosa che mi stimolava mentalmente parecchio, quindi mi piaceva l'idea. E fatti 18 anni che quindi potevi entrare ufficialmente, da come parli sembra che tu ti stavi già preparando, partendo con un pochino di rincorso rispetto agli altri, quindi poi 18 anni, finisce la scuola? Fatti 18 anni, estate tra la quarta e la quinta superiore, io sono del 31 luglio 2000, quindi ricordo proprio che faccio il compleanno praticamente uno o due giorni dopo, se ne sbuca Matteo De Petris, mio socio in affari ai tempi e in realtà tutt'oggi, dove viene da me e mi dice Matte non hai capito, noi adesso stiamo facendo dei soldini con le prevendite ma stiamo giocando un gioco troppo piccolo, ho scoperto il mondo del business online e io gli ho detto che cos'è business online, cosa vuol dire? Mi ha spiegato, hai capito, puoi partire da zero anche senza soldi, senza competenze, anche mentre andiamo a scuola lo possiamo fare perché noi avremmo dovuto affrontare la quinta superiore, io ovviamente scetticissimo in materia perché comunque provengo comunque da una famiglia sicuramente non di imprenditori digitali ma neanche di imprenditori che mi hanno proprio incanalato nel percorso di vita standard, classico, quindi elementari, medie, superiori, università, curriculum, lavora a 50 anni, pensione e via. Un po' la strada scritta per tutti. Sì, scritta per tutti, quindi lo guardo lì per lì e gli dico, no ma guarda che non funziona così la vita, però io di lui avevo proprio una fiducia cieca, d'altro canto avevo un forte scetticismo, lui lo ringrazierò per sempre proprio perché lui lì è riuscito a farmi togliere questo scetticismo da sotto il naso e parlarmi con dati oggettivi sul cambiamento del mondo del lavoro, mi ricordo proprio che mi portava, mi mandava su whatsapp gli articoli, lì si iniziava a vociferare per le prime volte dell'intelligenza artificiale nel 2018, dei bot, dei robot che ci ruberanno il lavoro, quindi quella roba lì io l'ho vissuta molto come un treno che mi stava passando davanti e potevo scegliere se salire su quel treno come capotreno, se salire su quel treno forzato, come si dice, cambiare per ispirazione o disperazione. Quindi lì mi sono detto questa può essere la mossa e io sono partito proprio meramente anche lì per un discorso collegato al denaro, nel senso che anche lui, siamo partiti proprio per quel discorso lì perché nella nostra testa l'idea era, ok qua stiamo facendo dei soldini, siamo diventati forti, pensa se facessimo, comunque ci siamo resi conto che era una situazione molto limitata soprattutto a livello geografico e quindi abbiamo detto Vi chiudeva quella di scone che eravate morti poi. E infatti covid, attualmente, abbiamo preso la scelta un anno dopo covid e infatti ci siamo detti meno male che. E quindi siamo partiti, siamo partiti così nel mondo del network marketing appunto, quello è stato il mio primo approccio ecco al mondo dell'imprenditoria. Adesso che la possiamo far sentire veramente è cambiato il podcast, è tutto real, è proprio parte così in live, è arrivato il momento, uno dei momenti più aspettati insomma dai nostri spettatori perché adesso hai detto tante belle cose e dobbiamo verificarle. Vai. È arrivato il momento dell'arca dei miti. Ehi, prima di continuare iscriviti al canale di Alzati e Fattura Podcast per supportarci e attiva la campanellina per non perderti nessuna puntata. Ti porteremo la storia di ospiti incredibili. Chi ti sta parlando è Alessandro Cutri di 20 Business Training, l'innovativa accademia di business per imprenditori, venditori e professionisti che ha già formato oltre 2000 studenti a raggiungere i propri obiettivi e ha collaborato con brand internazionale come Red Bull, Fit Active e tanti altri. Clicca subito il primo link in descrizione per maggiori informazioni e guarda subito la masterclass gratuita che abbiamo preparato per te, dove scoprirai le quattro capacità fondamentali per diventare un venditore di successo e cominciare a fatturare oltre ogni limite anche partendo da zero. Cos'è l'arca dei miti? È un sistema innovativo che abbiamo sviluppato, abbiamo fatto sviluppare in realtà da degli esperti, che va a rappresentare in maniera reale al cento per cento, precisa al cento per cento, il fatto che tu hai avuto culo oppure che ti sei fatto il culo. La fonte, la fonte proviene da Jeff Bezos questo. Ok. Jeff Bezos è di mezzo. C'è di mezzo anche lui. Io faccio tre giri o lo stesso numero ogni volta cambi. Ok. Vediamo il livello di fortuna. che mi mandano i segnali di fumo. Infatti dicevo. Vai, scegli intanto il primo. 25. 25! No, l'ho girato male, va bene lo stesso. 15, 15. Ultimamente stavo migliorando, stavo migliorando. Un corso da gruie. Zero. Zero, abbiamo cambiato qua. Com'è che dicono? Niente. 36. 10. Oh, eccolo qui. 9. 9. Niente. Quasi ha avuto culo. Anche, anche Matteo Bianco non è fortunato. Niente, niente. Significa che ti sei dato da fare, no? Nella vita. Sembra di sì. Almeno quello dici di sì e quello è preciso, abbiamo detto. Sì, forse essere fortunato. Certo, devo dire che 9, 10, una bella sfiga però. C'è stata una volta che mi è stato particolarmente sfortunato invece. Sfortunato. Un aneddoto. Un aneddoto, ma guarda, ma io sugli aneddoti faccio cagare, questa è la verità, perché sono proprio imbarazzante a ricordarmi le storie. Sicuramente ti potrei dire di sì in qualche cosa, ma forse qualche avventura in classe dove puntualmente la professoressa... Nel business non è mai capitata una sfiga particolare? Sì, investimenti andati male o... Per sfiga o per... Guarda, è successo due settimane fa che praticamente... Poi sembrava una sfiga, poi alla fine non è stata una sfiga. Ero convinto di aver sbagliato una stringa in cripto e di aver sbagliato a mandare 21 mila dollari a una persona in cripto. E lì non puoi fare poi? No, è andata... È andata così, è andata così che io ero... Stavo nudo completo, stavo entrando in doccia e avevo questo telefono qua e dovevo fare un'operazione rapida, quindi mi arriva la stringa, io copio e incollo su Bybit, destra e sinistra e praticamente mando l'operazione, mi arriva un messaggio stop, fermati, la stringa è sbagliata e io ero lì a dire tipo no, non è vero. Sei diventato bianco nel vero senso. Sono diventato bianco più del mio cognome e poi mi è arrivato il messaggio, in realtà colpo di culo, non scherzo giusto. Però è interessante, tu che rapporto hai con la fortuna o perlomeno ci credi alla fortuna? Allora, io credo nella fortuna sì, sarebbe stupido secondo me dire di no, però credo che puntualmente i più fortunati siano sempre quelli che lavorano più degli altri, per quale motivo? Perché secondo me la fortuna è un qualcosa che banalmente attrai, di conseguenza se tu sei un quitter e la fortuna voleva baciare proprio te, se tu quitti prima, magari la fortuna viene a cercarti per darti un bel bacino a stampo, però non ti trova perché hai quittato. Quindi ammetto io che a volte casomai ho avuto dei colpi di culo, dei colpi di fortuna, a volte dei colpi di sfortuna. Nella mia testa le persone che vedo più fortunate e che poi sanno diciamo far permanere anche questa fortuna o comunque usare bene quella fortuna, lì sono sempre puntualmente quelli che lavorano più degli altri. Mi trovi abbastanza d'accordo. Io dico sempre che l'universo odia i pigri, non li premia e la fortuna poi è un termine forse un pochino abbastanza vario la parola fortuna, però effettivamente baci agli audaci. Sì, secondo me direttamente... Gli arriva una situazione, non legge dei grandi numeri, però poi qualcosa succede. Direttamente proporzionale alla tua etica lavorativa. Direttamente proporzionale alla tua etica lavorativa. Rimandata forse un po' nel tempo, quindi anche da oggi lavori subito, oggi sei fortunato, rimandata nel tempo però secondo me sì. Non ci vuole arroganza. Mi piace pensare che sia così, mi piace pensare che più lavoro e più sarò fortunato. Certo. Beh, anche perché comunque la fortuna è un dato di fatto che esista, no? Cioè succedono centomila cose al giorno, se tu ti ritrovi in mezzo, eccetera, però se sei attivo, se sei nel gioco ti può capitare, altrimenti no. Sono d'accordo, sono d'accordo. Bene, bene. E oggi invece Matteo chi è? Allora oggi Matteo è una persona che lavora davvero tanto, davvero 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 tanto. Indicativamente al giorno quante ore le dedichi al lavoro? Guarda, io ti dico, sono costantemente in conflitto con le persone che mi vogliono bene perché la frase è sempre la stessa. Ma perché? Mi avevi detto che cinque anni fa se fossi arrivato lì, poi ti saresti preso una pausa, saresti andato in vacanza, ci avresti dedicato del tempo e l'idea è che continuo a battere su quella roccia come se, l'idea è proprio quella di lavorare come se avessi la metà della metà della metà della metà di quello che hai, ma proprio perché la verità è che io sono, mi appassiona quello, cioè io sono la classica persona che riesce a trovare la felicità e la soddisfazione durante il percorso invece che quando hai in mano l'obiettivo messo in tasca. Quindi io, questo è lo slogan mio sui social, è proprio quello dell'in the making, della vita in the making, dell'essere in the making, che per me vuol dire proprio quello. Cioè paradossalmente la soddisfazione è una sensazione che voglio allontanare il più possibile dalla mia vita perché so che più sono soddisfatto e più ho l'incipit diciamo di sedermi. Quindi quello voglio che sia un qualcosa che non succede, di conseguenza. Quindi ricerchi lo stress e la fatica? Cerco lo stress, cerco la pressione, tantissimo. Come ricerchi in genere? In che situazioni ti metti che ti possono dare difficoltà? Allora, in modo, sì, anche in modo pragmatico, banalmente avendo degli standard molto alti e bombardandomi di task ogni singolo giorno. Io sono una persona che ha un workflow molto, molto, molto migliore quando lavora sul breve periodo invece che sul lungo periodo. Cioè io so che se voglio performare mi metto lì la mattina e dico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sono task che oggi devono essere completate. Nei micro obiettivi, certo. Esattamente. Sono abituato, nonostante sono da 5 anni e passa nel game, ma comunque fare orari improponibili, dormire pochissimo di notte. Questo non perché devo, ma perché scelgo. Infatti la mia teoria, poi vediamo se me la appoggiate anche voi, però quello che io dico sempre, soprattutto al mio team e ai miei ragazzi, che certo è difficile spingere quando sei all'inizio che non hai niente, non hai risultati, non hai ancora consapevolezza, è verissimo che è difficile spingere lì perché spingi e non ottieni nulla indietro. Quanto è davvero tanto continuare a spingere quando invece inizi ad avere in grande? Perché lì in realtà la, diciamo, l'occasione di sederti e di dire… Di alibi ne hai tanti. Sì esatto, di alibi ne hai tantissimi e lì secondo me l'unica cosa che ti può salvare e continuare a mantenere alto lo standard, no? Io credo che i migliori input nel darti da fare, ne parlavo proprio qualche settimana fa in uno dei nostri corsi con un gruppo di nostri venditori, studenti, che insomma studiano da noi e diciamo proprio questa cosa, nel senso, quando sei all'inizio, quando sei in una situazione normale non hai grossi stimoli. Tu hai stimoli grossi nel fare, nel fare, c'è in due circostanze. O quando sei veramente nella merda e quindi devi uscire, devi trovare il modo di reagire, di fare, eccetera. Oppure quando cominci a vedere dei risultati perché ti ingolosiscono e capisci che c'è sempre qualcosa poi dietro che puoi ottenere. Tanto i limiti non ce ne stanno. Se hai la capacità di guardare un po' in alto ci sarà sempre qualcuno meglio di te che fa più di te, che guadagna più di te, che fattura più di te e quindi tu in questo modo continui ad avere fame e mangi ma non ti sazi mai. Io trovo proprio lo stimolo lì. Cioè io sono gasato non quando entro in una stanza e sono il numero uno, sono quello che fa più soldi, sono il più famoso, sono il più più più. Quando entro in una stanza e sono l'ultimo degli stronzi dico questa è la mia stanza, questa è la mia stanza e voglio interfacciarmi con queste persone qua. Il problema è chi si cerca invece le stanze dove è il più figo. Però quelle sono persone diciamo che lo fanno per darsi una pacca sulla spalla, per stimolare il proprio ego. Io penso di essere uno dei pochissimi speaker a livello penso nazionale che odia gli applausi. Io praticamente quando parlo in pubblico costantemente perché giustamente gli applausi poi partono, sono solito proprio a stoppare gli applausi per il semplice fatto che, capito, innanzitutto voglio che rimangano focus quando mi ascoltano ma soprattutto so che quella è roba che stimola il mio ego. Quando l'interlocutore dall'altra parte non mi applaude e so che nella mia testa c'è chissà se gli starà piacendo il mio speaker. Lì è dove performo perché vado sotto pressione e dico invece quando mi applaudi so che mi sta piacendo, invece mi piace quando faccio speech di un'ora. Senti, allora dai social, che è un po' il canale nel quale tu sei più attivo, non si vince benissimo? Cosa fai durante il giorno? Tu dici lavoro, lavoro, le tasche. Mi spiega esattamente cosa fai, com'è una tua giornata tipo. Assolutamente. In cosa consiste effettivamente il tuo business? Allora, io ti dico ad oggi il mio business principale si rimane sicuramente il network, quindi il modello di business dal quale sono partito cinque anni fa e che sto scalando appunto da cinque anni. Parallelamente ho appunto i social che come ben saprete anche voi sono un lavoro a tutti gli effetti. Attualmente sono attivo su tre grandi piattaforme che sono TikTok, YouTube e Instagram. Insieme a tutti i ragazzi di Oscar e l'agenzia che mi appoggia c'è comunque un grosso lavoro anche in termini di pubblicazione perché comunque adesso l'idea è di riniziare a uscire una volta al giorno su Instagram, una volta alla settimana su YouTube più uno shorts al giorno e cinque volte su TikTok. Quindi comunque anche in termini di creazione, contenuti, si parla di quello. Ho un brand di abbigliamento, da due anni a questa parte il brand Papi che è un progetto che seguo e che mi piace molto soprattutto dà molto sfogo diciamo alla mia creatività personale e in più vabbè ci sono tutte le altre aree dedicate ai miei soldi come avrete anche voi che si tratti di investimenti, che si tratti di protezione denaro, di moltiplicare il proprio denaro, di gestire il proprio denaro. Quindi quando mi chiedono Matti che cosa fai? Io mi sveglio la mattina e risolvo problemi a stecca tutto il giorno. Se mi dovessi chiedere, Matti qual è la tua daily routine? Sacrilegio, io non sono uno di quelli che si sveglia alle 6, doccia fredda, corro 700 km. Allora io sono una persona estremamente notturna, quindi io tendenzialmente dormo, ecco ho scoperto che io sono perfetto quando dormo 7 ore a notte. Tendenzialmente succede che vado a dormire alle 2 e mezza, non dormo però sono nel letto, quindi 2 e mezza, 9 e mezza tendenzialmente quella è la mia routine perché io ho la pa... Potreste farmi una vacanza insieme voi due, guarda. Siamo uguali che te? 9 e mezza, 10 mi sveglio, però vado a letto per le 3 e 4 quindi dormo un po' di meno, un pochino di meno. Nel mio caso non perché fa... Vi vedo, vi vedo che la mattina mi svegliate, vi truccate con quella roba che diciamo. Sì, ci diamo i bacini, la skin care. Sì, carini, carini. Facciamo il set allo specchio. Però questo succede perché io sono... La parte massima della mia creatività avviene tra le 11 di sera e le 2 di no. Quando a me servono idee, so che se ci penso alle 16 è impossibile. Se ci penso a mezzanotte e mezza, mi vengono le idee. Quindi io sfrutto al massimo quel momento. Sei un creativo, siamo su questo... Si è obbligato. Mi raccontavi tu l'altra volta che questo modo, perché io per esempio sono il contrario, io sveglio a 7 e mezza, cioè non sono quello doccia fredda, però io mi sveglio caffè, boom. Io dalle 8 alle 11 do il meglio di me. Però poi ovviamente la sera faccio ovviamente più fatica. Però tu dicevi l'altra volta. Abbiamo fatto un bel ragionamento l'altra volta, sì. No, no, però mi raccontavi la roba degli animali. No, no, no. Allora, esiste un cronotipo, cioè il nostro corpo non ha un orologio biologico uguale per tutti. Io per esempio rientro all'interno del gufo, un animale estremamente notturno e ha proprio dei bisogni diversi, tanto che si dice che le persone prevalentemente notturne hanno dei problemi nella società, perché io mi sveglio, sono il capo dell'azienda, faccio quello che voglio. Ma quando dovevo lavorare per qualcun altro e alle 7 del mattino mi dovevo svegliare, io che amare, stavo proprio male. E non è pigrizia, perché la mia pigrizia non mi permetterebbe di essere dove sono ora. Certo. È semplicemente saper ascoltare il proprio corpo. Sono d'accordo. Io, una cosa che ho notato, non so te, la notte, la sera, come detto, proprio verso le 11, si avvia maggiormente la creatività. La creatività mi dà una capacità di vision diversa, quindi riesco a vedere le cose in maniera più in grande e in automatico mi viene ancora più coraggio. Già ne ho abbastanza, ma la sera è una cosa che io sarei pronto ad andare in guerra. Io anche. Talmente ho la capacità di pensare, viaggiare. E hai proprio il problema opposto, cioè l'idea che ti devi mettere a forza nel letto, perché sennò io tendenzialmente più delle 9 e mezza non mi posso svegliare, perché comunque poi sei in ritardo sulla giornata, non mi piace, no? Però devi metterti a forza a letto. E una cosa che a me succede praticamente tutte le sere quando inizia il mio flow a livello di creatività, eccetera, eccetera, che io mi metto a letto, chiudo gli occhi, idea, apro le note dell'iPhone, la scrivo. Chiudo gli occhi, idea, note dell'iPhone, la scrivo. E vado avanti, casomai così, per tre quarti d'ora. E quindi magari poi mi addormento alle tre quarti. Io avrò la gallina probabilmente. Questi artisti. Ma domanda, a livello invece di business business, proprio che hai un brand abbigliamento, tu di cosa ti occupi all'interno di questa azienda, di questo progetto? Allora, all'interno del progetto Papi, io sono più che altro, diciamo, la parte anche qua appunto creativa. Certo. Quindi Papi, diciamo, vuole essere un brand per tutti coloro, non per forza che fanno business online, ma che in generale vivono una vita in the making. Stesso discorso che vi dicevo prima. Quindi per persone che tu magari, ok, fai impresa, tu sei uno sportivo, tu hai il tuo percorso, non so, scolastico, ma che credi estremamente in quello che fai e soprattutto appunto non cerchi la soddisfazione nel breve periodo, ma ti senti di essere qui sul pianeta Terra con una missione ben delineata e sei pronto per buttarti nel fuoco per quella missione lì. Quindi questo è un brand che nasce per, in realtà per un approccio molto pratico, mi piace che le persone quando indossano i miei indumenti non riescono a, quando sono attratti dalla pigrizia, si ricordano del messaggio del brand e scacciano quella pregrizia e dicono, fanculo, ho questa maglia addosso, ho questa t-shirt addosso, questa collana, questo cappellino, queste calze, mi ricordo che ho comprato questa maglia perché ho sposato quella missione lì e quel modo di vivere. No, sono ancora ancora. Ritro, bravissimo. Un ammuleto vero e proprio. Un brand di ancora e riscuotendo i feedback, io ho un sacco di ragazzi che casomai sono clienti del brand che mi dicono, Matti ma sai che quel giorno lì dopo pranzo ero sul divano, scrollavo TikTok, non avevo voglia di fare un cazzo, mi sono ricordato che avevo questa maglia, mi sono ricordato le tue parole, mi sono rimesso a spingere. E questa, cioè quando succedono queste cose dico bingo. Quindi diciamo, di nuovo un suono strano. Mi fai spaventare a volte. Partito forte. Sento un po' al cinema. Adesso che cosa sta per succedere? È il secondo momento più ricercato, più atteso. Adesso arriviamo veramente ai piani alti perché è arrivato il momento di carta o Bancomat. Sti cazzi è vero? Ah, è proprio no. Nel senso che devo scegliere come pagare. Devi esattamente scegliere come pagare. Come pagare. Ti spiego, abbiamo praticamente creato il nostro questo o quello. Andrò a farti una serie di domande, 5 in totale, dove la risposta è o una o l'altra. Diametralmente opposte. Ok, sono pronto. Allora, vediamo un po'. Io non posso sbirciare. Matteo, è stato abbastanza buono. È stato magnanimo. Forse perché siamo tutti e due dei gufi sarà per quello. Sì, 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 si può darsi. Allora, Teo. La prossima volta portagli qualche maglietta. Ma la prossima volta la facciamo di notte. Così in vero non si mette in camicia. La facciamo di notte. La facciamo di notte. Solo che lui, vabbè. No, ma allora, io in realtà ho un figlio di 11 anni che questo è il piccolo dettaglio. Ok, questa è la cosa. Però in realtà quando ho la possibilità di isolarmi, eccetera, è una figata. Perché allora... Beh, scusa, ne abbiamo lavorato più volte fino alle 3 del mattino assieme. Sì, sì, sì. Ma in realtà a me... Allora, io non è che... Cioè, io è la parte centrale. Io tra le 6, le 8, le 5... Diciamo dalle 5 alle 8 io mi annebbio. Cioè, per me la mia vita ideale, ora, chiaro, con la famiglia, eccetera, però facessi solo business e basta, io che farei? Lavorerei fino alle 4, pennichella di un paio d'ore, poi alle 7, 7 e mezza, 8, boom! E si riparte. Minchia sarei, sarei un animale. Io se faccio una pennichella alle 17 mi sveglio puntualmente, 36 ore dopo perché... Sì, sì, sì. No, io power nap quelle cose non le posso fare. Io penso che non riuscirei mai ad addormentarmi a quell'ora, mai. Il problema è se riesci ad addormentarti. Dopo pranzo riuscirei. Devi guardare che animale sono. Devi guardare che animale è che si sveglia, ritorna, si sveglia e ritorna. Sei un leone, un leone. Però volevo dirvi prima, è che la grossa differenza ce l'hai nel momento in cui hai a che fare con tante persone. Che quando hai i dipendenti, eccetera, è bello lavorare a mezzanotte perché ti annebbi completamente. Io ogni tanto qua in ufficio metto il numerino, vale il minuto o vale i due minuti? Quella roba a mezzanotte non la puoi fare. Eh, quello è vero. Però in effetti la creatività... Fai attività di rarsi. No, no, infatti. Però quando devi fare roba di creatività, io quando devo scrivere contenuti, preparare i corsi... Io per esempio ho tutti i corsi dal vivo che abbiamo fatto, la preparazione, però non mi metto a farlo di notte. Perché in effetti sei isolato, il telefono non ti squilla, le mele non ti arrivano. Sei full focus. È un altro mondo, è un altro mondo. Dai va, vediamo se le domande che hai preparato. Sono pronto. Allora, la melodia è sempre la stessa. Matteo, preferisci fare network o avviare un brand di abbigliamento? Fare network. Come mai? Perché hai la possibilità di ispirare molte più persone e cambiare molte più vite. devo riconoscere questa cosa qua. E infatti proprio per quello all'inizio ti ho detto, quello continua a essere il mio... E dillo che fai più sordi pure. Sì sì, quello sicuramente. Senza network che magari non avresti avviato un brand di abbigliamento. Infatti si trovano bene insieme. Quindi domani ti dicono uno dei due devi chiuderlo, devi abbandonarlo. Spalli. Mi dispiace, però scelgo il network marketing. Ok, ok, ok. Matteo. Oggi e poi domani. Domani si rivede. Ma loro la sento così forte come la sentiamo. Allora Matteo. Avranno fatto tutti così. Allora, mi senti? Matteo, poi questa cosa un po' succede. Sì, però come si è una sarabanda, quello di Papi. Uomo canto, uomo canto. Di Papi, di Papi. Tutto collegato. Non ce n'è. Non ce n'è. Matteo, sceglieresti di legalizzare la prostituzione o la marihuana? Allora, io non fumo, quindi ti direi che legalizzerei la prostituzione. La prostituzione. Non perché. Non perché. Usofruisco in modo illegale. Va bene, va bene. Tra le due, secondo me, è molto più sensibile. Dici se devo usufruire di qualcosa. Sì, a parte che sì, a parte che sì, cioè non mi vergogno di... Cioè non mi piace fumare, non fumo, non reputo un'enorme cazzata a fumarsi le bombe, le cani. Poi non so se voi fumate, io non... Preferisci da figa. Provavo, ho provato a 16 anni, mi addormentavo. Faccio due note, mi addormentavo. Ho detto, non voglio dormire nella mia vita. Quindi fanculo. E quindi prostituzione. Va bene, va bene, va bene. Matteo, preferiresti morire a 90 anni e aver raggiunto il 70% di tutti i tuoi obiettivi? Oppure andartene a 60 ma li hai raggiunti al 100%? Questa è bella. Facili hai detto tu pure. Penso che roba. Penso che me ne andrei a 60 con il 100% della roba raggiunta. Anche io, anche io, anche io, anche io. Lasciare il mondo da errore. Che cazzo fai dai 60 ai 90 se hai già fatto tutto? Sì, no, infatti... No, poi chi vuole arrivare al 70% sti cazzo? No, fanculo. No, no, no. Bene, bene, bene. Anzi, che li sei goduti in un'età migliore. Quindi 100% anche io. Sì, sì, sì. Io sono per un giorno da leone che è il 100 da pego. Bravi. Poi se ne posso fare due da leone è meglio. Comunque, preferiresti, sceglieresti di eliminare gli omofobi o i razzisti? Uh, questo è brutto. Penso i razzisti, ma per il semplice fatto che ci sono più razzisti che omofobi al mondo, credo, nella mia ignoranza. Non voglio dirlo. Li eliminerei tutti a due volentieri. Certo. Ma questa è la risposta facile. Sai, nel 2024 sei omofobo o razzista, nel senso vatti a fare un attack, c'è qualcosa che ti frulla in testa che non va bene. Dovessi scegliere probabilmente i razzisti, ma per il semplice fatto che penso che siano più i razzisti che gli omofobi, credo. Io tanto in questo format faccio solo il commentatore, però in realtà credo, anche io avrei detto i razzisti, ma anche per il livello di reazione che c'è, nel senso le contrapposizioni razziali generano aggressioni anche molto più forti. Non che quelle degli omofobi stesse, non che quelle degli omofobi, no, però sicuramente l'impatto che ci sarebbe eliminando i razzisti sarebbe migliore rispetto all'impatto che ci sarebbe eliminando gli omofobi. E poi, scusami, credo che elimini i razzisti, elimini gran parte degli omofobi, perché gli stupidi sono stupidi in tutto, in genere. E soprattutto penso che ci siano più persone che soffrono di razzismo, cioè più persone che vengono, diciamo, incriminate dai razzisti e vengono offese dai razzisti, piuttosto che gay al mondo. Azzardo questa cosa, non lo so. Può darsi, comunque, se si potessero eliminare entrambi, diciamo che comunque gli omofobi, bisogna aggiungere un'altra cosa, gli omofobi sono di fatto una costola dei razzisti, perché vedono gli omosessuali come una razza diversa. Bravissimo. Quindi di fatto, secondo me, eliminiamo tutti. Se poi è un omosessuale di un altro colore, lì stanno male proprio, nel senso impazziscono. Fuori di testo. Fuori di testo, ok. Quindi andiamo dalla parte di eliminare i razzisti. Ultima domanda, Matteo, preferiresti avere un patrimonio multimilionario, ma multimilionario però davvero? Sì. Dovuto da un business poco etico, ma veramente poco etico, ma legale, eh? Legale, però poco etico. Ok, ok. Oppure averlo ereditato tutto quanto dalla zia ricchissima. Che troia, brutta sta roba qua. Affacco di poco etico. No, dai, dalla zia ricca. La zia ricca, dai, 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 io non posso. Io non posso, dai, poco etico. Poi dovresti classificarmi il poco etico, smarciare armi in guerra e ti dico, no, va bene la zia ricca. No, 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 poco etico, una via di mezzo, insomma, però sono parzialmente d'accordo. Zia ricca e poi investiamo insieme in business poco etici. Poco etici. Facciamo un patrimonio molti miliardario. E li raddoppiamo. Facciamo per dieci. Ciao, guardia di finanza, ciao. E poi mi sembra di capire se la zia li ha fatti in maniera etica. Esatto. Perché la zia non sappiamo come li ha fatti. Chissà. La zia non li ha fatti in maniera etica, eh? Assolutamente no. Bene, l'arca dei miti. Eh sì, l'arca dei miti. Prostituzione, prostituzione o razzismo? No. Ah, o marijuana. Prostituzione o marijuana? Poi cosa avreste risposto? Prostituzione. Io legalizzo la marijuana. Sì? Sì. Ma al 100%. Al 100%. Sì, sì. 100%. Ma la sono posta. Cioè, vedo solo più vantaggi nel legalizzarla piuttosto che andare a legalizzarla. Anche la prostituzione andrà a legalizzarla perché tanto entrambe le cose avvengono, ma mettiamole sotto controllo. Sì, esatto. Tassiamo, prendiamoci quei soldi e andiamo a ricoprire un po' il debito. Curioso, curioso. La cosa è che vedo, vedo, per quanto la marijuana non è che faccia sti danni, la cocaina ovviamente era diverso. Però vedo meno danni. Bravo nella prostituzione. Rispetto che nella marijuana. Guarda, io vi dico, io ho avuto un'esperienza molto lunga con la marijuana, con la prostituzione praticamente pari a zero. Non ho mai visto nessun uomo. Cosa vuol dire praticamente pari a zero? Eh, mi è scivolata una volta la chiamata. Non è un problema. Mi sentite? Taglio, taglio. Ricominciamo dal gatto. No, vabbè, non c'è da sconderse. Insomma, tutte esperienze che vanno fatte amici a casa. Non è vero. Comunque, l'idea è questa, nel senso, la marijuana ha tantissimi benefici. Tantissimi a livello di, già solo, gestione dello stress, gestione di attacchi di panico, di relax, di metterti a posto un attimino la testa. Se non la utilizzi come un farmaco, come una droga, bensì come quella volta lì che vai a mangiarti la pizza, ti bevi la birra. Io per esempio l'alcol non lo bevo. L'abuso come lo metti? L'abuso diventa sempre un problema in qualsiasi cosa, anche col sesso con la propria ragazza. Se diventa un problema doverlo fare tre volte al giorno, lì diventa un'ossessione. E diventa un'ossessione troppo vincolante, quindi che può avere degli sfoci di problema. Se viene utilizzata come quell'elemento particolare, ripeto, come un drink in discoteca, secondo me può essere giusto. E invece no, la prostituzione per me è una cosa per uomini tristi, che vanno da donne altrettanto tristi, a fare cose che a nessuno di due piace, che si pentiranno una volta fatto, una per i soldi e l'altra perché li ha sprecati. Ah beh certo, se ne fai una questione... La mia idea è piuttosto, ma io personalmente andrei da quella parte. Certo, curioso, curioso. Comunque si chiamerà questo episodio Sesso, Droga e Matteo Bianco. Perché io lo so che voi avete fatto bella. Sesso, droga e bianco. Bianco, bianco. Io lo so che avete fatto tutto questa roba qua per poter avere il titoletto dopo. Ma gli occhiali che abbiamo messo stavolta sono proprio per censurare. Non siamo strappatti, amici. Non a caso, non a caso. Vabbè, stasera quindi cosa si fa, amici? Questa è veramente la puntata più alta di tutti. Vedete la cosa bella? La puntata più alta, ma non avevo dubbio. Vedete la cosa bella? Vedete la cosa bella di portare ragazzi giovani, no? Capito? Ti portano sulla giusta strada, sulla giusta strada. Colleghiamocelo a questo tema, Teo. A livello di relazioni. Almeno per quanto riguarda la vita, un po' la sfera amorosa. Come sei messo in questo momento? Cioè, sarebbe possibile per te, con la tua vita, che io vedo sempre che sei da una parte o dall'altra, viaggi sempre, poter mantenere viva una relazione reale di sentimento con una donna? O un uomo, se fosse diverso? No, no, fai i doni. Iniziando alle donne, poi... Non fare l'uomo. No, 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 no. Non farlo. No, no, ci manca. Allora, ti rispondo in maniera estremamente soggettiva. Compra un pulsante, un buzz, che appena... Ce l'hai, non ce l'hai. Dobbiamo questo. Bello questo. Il suono... Belli. A saperlo prima stavo tutto... Ti facciamo rispondere. No, allora, ti rispondo in maniera estremamente soggettiva. Il che cosa vuol dire? Che questo è la mia personalissima visione, e non è un consiglio che do a un giovane che vuole fare business, allora scelgo il consiglio di Matteo Bianco. No. Per come ti dico io, mi sentirei una persona estremamente... Estremamente... Una persona che prende per il culo un'altra persona, non so come si dice in gergo, però mi sentirei di prendere per il culo una ragazza alla quale attualmente gli dico sì, sono pronto a fidanzarmi e la nostra relazione potrebbe essere sostenibile. Perché la verità è che nel mio caso attualmente non potrebbe essere così per 17.000 motivi, ma perché di base nella mia testa una relazione, comunque, anche in parte, anche poca, anche in minima parte, ma ti prende più che tempo energie e spazio mentale. Di conseguenza, io piuttosto che stare con una persona e darle il 10% di Matteo Bianco, preferisco non darle neanche quel 10%. Ripeto, non tanto per me, perché io spesso e volentieri, se ci penso, potrebbe essere anche una situazione comoda. Cioè, se io facessi un pensiero estremamente... che penso solo ai miei interessi, dico, no vabbè, ma sai che c'è? Tanto a me potrebbe anche andare bene e per me potrebbe essere sostenibile. Se penso a lei e penso... Lei immagina in quanto principessa il ragazzo perfetto della sua vita attualmente in termini di relazioni, in termini di fidanzato, sicuramente non sarebbe... Però non pensi che... Tu dici, ti toglie energie. Non pensi che le relazioni invece a volte delle energie te le possano dare? Sì, assolutamente sì. L'idea è che per far sì che si verifichi questo devi trovare quella una ragazza su 10 milioni. E dato che come prima abbiamo giocato a quel gioco e come vedi non è che sono proprio il top dei fortunati, non so quanto questo... Non l'hai ancora trovata. E poi ci vuole tempo comunque ad arrivare in quella posizione che dicevi Vale. Sì e soprattutto... Di prendere energie una volta che le date. Soprattutto secondo me le relazioni sono un argomento da studiare. Da cima a fondo io mi sento estremamente... non mi sento di essere un top fidanzato. Però qua io sto notando che c'è veramente un cambio generazionale da questo punto di vista. Proprio come le nuove generazioni hanno sempre meno bisogno di avere un qualcuno al proprio fianco. Ma non è così. O forse... Scusa, se io non facessi un cazzo tutto il giorno... No, è la stessa questione del lavoro. Qui mi sento io che ho vissuto sia una mezza generazione precedente che vedo questa di oggi. In realtà non è così. E che stanno cominciando a svanire e io direi anche per fortuna tutti gli stereotipi il posto fisso il matrimonio tutto ciò che riguarda gli step di vita il senso di appartamento oggi sta subentrando maggiormente un desiderio di libertà. E quindi è sia nel lavoro ormai nessuno vuole andare a fare il lavoretto eccetera ma tutti vogliono fare business eccetera eccetera e idem vale per le relazioni. Cioè si sta un pochino sgretolando e ribadisco per fortuna quella necessità di dover avere il senso di appartenenza nei confronti di qualcosa. Sì. Quindi io la vedo in questo modo. Al netto di questo vi dico che se io non facessi un cazzo tutto il giorno non viaggerei così tanto d'essere sinistra obiettivamente è normale che una relazione può essere comoda e riconosco il fatto che ti può davvero dare tanto. Infatti se mi chiedi nel mio futuro ti vedi certo riconosco però che sarei estremamente egoista una persona estremamente egoista direi di sì ora perché prenderei palesemente in giro l'altra persona. Mi sembrava più giusto adesso c'è questo mi sembra pure onesto Matteo Bianco il 28 marzo 2024 non ti so dire tra ci dai tre consigli per i nostri spettatori soprattutto molto giovani magari che hanno 18 20 anni su che cosa devono fare i primi tre step un po' per uscire da quello che è il tunnel della vita legalizzare la marihuana legalizzare la prostituzione allora cazzo fa che se vai in politica ti votano tutti tutti legalizzare la prostituzione tutti ma proprio le maglie si potrebbero fare marchiate i papi e via siamo sulla Cresselon il papi delle prostitute ciao ragazzi io devo andare grazie a tutti questa intervista si sta pensa agli spezzoni d'America spagnolo eccetera il papi si si ma pensa agli spezzoni di questo podcast se io non vedo l'ora se io non vedo c'è abbiamo uno video maker che si sfiscerà e non saprà sa mia madre lì su tiktok e dice il papi delle prostitute che non fa i soldi ecco com'è il network marketing com'era faccio i miei stiamo rovinando un settore comunque i tre step allora secondo me una persona che parte oggi deve avere tre cose fondamentali cioè se mi dici Matte sono a zero quali sono le tre cose che mi servono che devo trovare là fuori punto numero uno sono le persone giuste quindi che cosa significa comunque vuoi o non vuoi io me ne rendo conto ecco lì sono stato estremamente fortunato a trovare le persone giuste perché lì è totalmente un caso cioè avere trovato le persone che mi hanno formato mi hanno portato avanti i miei mentori mi rendo conto di aver trovato proprio le persone giuste e mi poteva andare estremamente male di conseguenza le persone giuste secondo me sono fondamentali e come trovi le persone giuste quello è un bel casino un bel casotto probabilmente se non sei fortunato come me devi lavorare di quantità quindi fidarti sicuramente della tua indole e non fidarti del primo che ti passa sotto le mani ma diciamo no voler testare testare però avere le persone giuste al tuo canto con cui fare tutto questo è fondamentale punto numero due il mezzo giusto quindi che cosa vuol dire scegliere quello che può essere il tuo modello di business che vedi più fatto al caso tuo perché scegliere il modello di business in base a qual è il modello di business più in trend nel momento più in voca nel momento il modello di business che mi fa fare più soldi quella roba lì è stupida perché tanto la verità è che i trend sono ciclici e ogni anno è l'anno di un determinato business lo vediamo ormai da 5-6 anni a questa parte di conseguenza devi scegliere secondo me un modello di business che si ti riempie le tasche non lo nego ma che soprattutto ti riempie la testolina e ti riempie le competenze le conoscenze il tuo avere delle belle giornate il condividere questo percorso con chi di dovere cioè che ti riempa in generale la vita in maniera importante in maniera importante terzo step la voglia giusta la cazzimma perché quella non te la può dare nessuno e la puoi solamente avrai te io in qualunque mio speech sul palco non sul palco dico sempre che questo è un mondo che non è per tutti io sono stufo delle persone che vendono pubblicamente il fatto di arrivare anche solo a fare 10.000 euro al mese anche solo 10.000 euro al mese senza parlare di milioni una persona che fa 10.000 euro al mese fa 120.000 euro l'anno in Italia per carità fai una gran vita ma non è che sei non sei ma neanche il numero 2 di conseguenza io proprio sono uno di quelli che a spada tratta proprio ho lo slogan infatti lo slogan del mio brand è papi's not for everyone non c'entra nulla diciamo con questo però l'idea è proprio che nella mia vita ci tengo proprio a specificare il fatto che questo è un mondo che non è per tutti ed è sbagliato pensare di dire che chiunque ce la possa fare qui dentro perché la verità è che non è vero è per tutti ma a determinate condizioni che non tutti sono disposti ad accettare bravo per chi è che non è il business secondo te cioè chi è che dovrebbe rinunciarci in partenza perché è forte sta roba che hai detto allora e devo dire che ci devo ragionare un po' se te la faccio se condividerla però voglio voglio te la faccio iper iper semplice non è per le persone che non sono predisposte o disposte al cambiamento io ho un sacco di persone intorno a me un sacco di persone che casomai ai tempi facevano parte del mio team del mio business o che ho incrociato nel mio percorso o che non facevano business insieme a me ma con cui ho avuto modo di connettermi che dico porca puttana se io avessi avuto la metà della metà della metà del tuo talento non so dove cazzo sarei arrivato perché la verità è che ci sono persone che nascono con il dono della vendita della leadership del parlare in pubblico il dono del carisma quando tu non ci nasci ti rendi conto di quanto sarebbe stato figo nascerci con quella roba lì è il classico sempre discorso tra Messi e Ronaldo non so se seguite il calcio però Ronaldo è il prototipo di giocatore frutto di duro lavoro di tantissimo allenamento Messi e Gennaro Messi e Gennaro quindi nella mia testa l'idea è tu non puoi fare business se non sei disposto o predisposto al cambiamento se non ti riesci a innamorare del dolore se non ti riesci a innamorare del sacrificio una cosa che io dico costantemente è che chiunque abbia un business dovrebbe se vuole continuare a scalare in maniera importante deve mettersi nella condizione dove per lui non fare un sacrificio è un sacrificio se io penso al 2019 quando tutti gli altri erano in discoteca quando io ero a casa a leggermi Napoléon Hill nella mia testa la verità è che sì mi girava il cazzo ma mi sarebbe girato il doppio più il cazzo essere in discoteca a non leggere Napoléon Hill perché tanto non mi sarei riuscito a godere il momento di conseguenza arrivare alla condizione dove per te non fare un sacrificio e il sacrificio lì ti rendi conto di essere sulla storia io rispetto il tuo pensiero tra l'altro lo condivido magari facendo ancora un passo un pochino più indietro che il business non è per le persone pigre se sei pigro non fa per te perché credo che non ci sia niente di peggio di una persona pigra e che sia anche ambiziosa è una vita di inferno è una vita di inferno però il pigro che non è ambizioso è uno che ha paura cioè nel senso allora questo ti condivido assolutamente aggiungo anche chi non ha un minimo di predisposizione di propensione scusami al rischio nel senso se tu hai paura di rischiare allora lì procrastini e allora diventi pigro credi che per avere coraggio per trovare il coraggio non ci voglia forza di volontà cioè la pigrizia mi ostacola anche nel trovare il coraggio secondo me la forza di volontà è ciò che ti fa affrontare quel rischio io vi ho parlato di cambiamento stando molto largo perché tu giustamente mi parli di picrizia però io ti dico una persona pigra può diventare una persona intraprendente se intraprende un percorso di crescita capito se vuoi intraprenderlo esatto io ti parlo io ti parlo di cambiamento io ti parlo di cambiamento perché ti potrei dire è normale che un business di relazioni non è per le persone timide vero però non è per la persona timida che accetta di rimanere timida capito l'idea è questa ci dici un tuo gossip una cosa che non hai mai rivelato davanti da videocamera non hai detto una cosa tua un tuo scheletto nell'armadio un qualcosa che non hai mai fatto uscire ce l'abbiamo dai ce l'abbiamo un po' tutti non c'è una musichetta sotto da mettere serve una musichetta non ce l'abbiamo posso cantare se vuoi una canzone vai un gossip ce l'ho un gossip ce l'ho il mio primo video pubblico parlato sui social che risale al penso marzo del 2021 è stato registrato per più di sette volte di fila perché mi facevo ribrezzo non riuscivo a dire va bene raga pubblichiamo dopodiché sono stato obbligato dall'entourage mi hanno detto sei obbligato perché se no ci devi 700 mila euro per il disturbo ci hai rotti i coglioni e di conseguenza il primo video è stato registrato rieditato sette volte perché avevo estremamente paura paura in realtà di nessuno mi guardavo e facevo ridere non riuscivo perfezionismo e sicurezza secondo te allora io sono un perfezionista da paura cioè nella mia testa ancora ad oggi fino a quando io sono rompo tanto le scatole per questo fino a quando non è al millimetro per me possiamo anche parlando di social possiamo anche non pubblicare una settimana piuttosto che pubblicare una cosa con una parola sbagliata un sottotitolo sbagliato un hashtag sbagliato in generale qualcosa di sbagliato quindi io sono un perfezionista bastardo e mi rendo conto che è un mio enorme limite ok perché la verità è che sarebbe molto più facile sparare e aggiustare la mira invece che dire sparo un colpo provando a fare centro c'è anche la via di mezzo c'è anche la via di mezzo il perfezionismo io non lo vedo come una cosa buona di me cioè vorrei che fosse una cosa che punto ad abbandonare di Matteo sì deve essere secondo mano moderato moderato bravo 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 adesso mi è venuta in mente questa cosa creativa dai ti va di dire ti amo a qualcuno ti voglio bene a qualcuno alla mia mamma posso? certo dillelo mamma dopo tutto quello che hai detto adesso dopo tutto quello che hai detto mamma quello quello era il vecchio Matteo Bianco adesso sono un nuovo Matteo Bianco e ci tengo a dirti che ti amo ti voglio bene e sei la persona più importante della mia vita bellissimo bello c'hai la trombetta che può partire puoi dire della mia vita di solo vita vita allora c'è l'ultima c'è l'ultima c'è l'ultima la camicia guarda caso con me la camicia ti cambia non chiede da sole che penso che sia notte vedo buio con me sei creativo guarda caso ma andiamo a fare in culo qualcuno chi è che possiamo mandare a fare nel culo scegli te però non non facciamo idiomofobico no una persona una ma vuoi nome e cognome no nome e cognome ma così no si si ma andiamo a fare nel culo chi è che posso mandare a fare anche un amico lo mandiamo a fare in culo ah una persona che oggi non mi ha risposto per quattro volte di fila gli devo dire Tato un mio grandissimo collaboratore uno dei miei migliori amici però Tato Tato vaffanculo perché non mi ha risposto quattro volte al telefono vaffanculo ora mi starà chiamando lui e io non ti rispondo e chissà Tato dov'era chissà Tato dov'era no in tour non lo diciamo in tour sta lavorando sta spingendo sta finendo gli ultimi documenti per la legalizzazione ci arriviamo signori sta facendo la raccolta firma la campagna elettorale da partire giusto papi papi non è per tutti è per il popolo è per il popolo Matteo ci hai portato un regalo come tutti quanti assolutamente sì gli ospiti io signori vi ho portato un regalo no non vi voglio assolutamente alzare le aspettative però in realtà è una cosa molto importante per me perché è una pagina del primo libro che a me ha cambiato la vita non è il primo che ho letto ma è il primo che ho letto e ho detto da qua cambi ok e vi ho preso questa è una pagina di questo libro l'hai staccata proprio sì sì per voi perché portarvi tutto il libro mi sembrava monotono quanti vi hanno già portato un libro tanti immagino non mi piaceva mi sembrava un po' monotono quindi vi ho portato la pagina 69 del libro numero a caso questo libro è Nessun limite di John Maxwell non so se conoscete e la frase che più in assoluto mi è rimasta impressa di questo libro e che io poi ne ho proprio scelto di fare appunto un mood di vita qua dice praticamente se mi sento debole raddoppierò il lavoro e questo per me bello bello quello che hai detto prima bellissimo molto importante io vivo la mia vita così ce la firmi? ah voglia facci una bella firma col sangue ah ok voilà siamo attrezzati siamo attrezzati bellissimo bello mi è piaciuto tanto molto creativo molto creativo ma è una puntata molto creativa bello alternativa alternativa vedi la camicia di Ale l'occhiale sono contento sesso droga rock and roll rock and roll non l'abbiamo toccato ma è arrivato il momento finale l'incubo sai che serve una musica per fare entrando anche la ruota o altrimenti Luca che canta allora so che tanto prima hai già dato abbondantemente un occhio alle risposte non possiamo sapere quella che uscirà ma sappiamo che questa emetterà un giudizio finale una sentenza una sentenza quando vuoi con energia gira e attenzione devi accettare che non puoi esimerti a nessuna delle voci che usciranno sei pronto? questo è una firma col sangue che hai fatto una volta mi serve gira 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 ah è due volte di fila bonifico attuenti posso dirvi la verità? potrebbe andare drasticamente peggio ma sai anche perché? perché questi 100 euro vanno in beneficenza perché abbiamo deciso di aderire al programma di Carlo Alberto Micheli no di Carlo Carmine anche Carlo Alberto Micheli però fa questa cosa dobbiamo fare entrambi è vero dobbiamo fare entrambi allora così la spieghiamo ne approfittiamo perché vedi che questa qui attrae sempre in maniera positiva la spieghiamo qualche giorno fa abbiamo girato la puntata con Carlo Carmine che lui è fondatore di un'app insomma ha creato un'app dove vengono fatte delle raccolte di beneficenza bello e quindi si tu puoi creare le campagne puoi mandare link alle persone che fanno molto interessante mi sfugge il nome adesso in questo momento come? Trust Me Up Trust Me Up e visto che qui c'è pure roba da pagare eccetera o noi dobbiamo soldi all'ospite o l'ospite deve soldi a noi eccetera abbiamo deciso almeno per quanto riguarda noi di 20 poi se l'ospite vuole a 50 euro gli radiamo non c'è problema ma abbiamo deciso ogni volta di scegliere una campagna di Trust Me Up appunto che ci ha consigliato Carlo Carmine poi magari parliamo anche con Carlo Alberto Micheli anche lui ha una fondazione eccetera e quindi insomma Alza De Fattura Podcast contribuisce anche al bene dell'umanità oggi a contribuire sono onorato sarà il grande Matteo Bianco che ringraziamo per questa fantastica puntata non vuoi l'applausi ma te li facciamo lo stesso bravo grazie ciao ragazzi ciao 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 incredibile siamo giunti alla fine di un altro episodio un'altra storia straordinaria che ci ha insegnato davvero tanto guarda e ascolta le altre puntate che trovi qui e ricorda di iscriverti e di attivare la campanellina per continuare ad arricchire il tuo percorso di crescita sia personale che professionale io sono Alessandro Cutri di 20 Business Training l'accademia punto di riferimento in Italia nella formazione in vendita e business e ti sto parlando dalla nostra sede di Milano uno spazio di oltre 1200 metri quadri dedicato interamente alla formazione di alto livello dove ogni angolo è pensato per stimolare la creatività la condivisione e l'apprendimento questo era Alzati Fattura Podcast la genesi dell'oppulenza e ti aspetto al prossimo episodio che il fatturato sia con te ciao